ho riorganizzato tutto è sempre in movimento tutto è sempre in crescita ho modificato quindi il piano d'appoggio e gli ho infilato la cassetta degli attrezzi così che qua rimane un po più libero qui ci sono uno lavavetri e l'altro è per il come si chiama il radiatore il liquido per il radiatore e questo li devi prendere mamma mia che paura e questa è la cassetta come ben si è visto nevica pare che ne avremo per cinque giorni e la residence è vuoto qui abbiamo la serie degli appartamenti Penelope guarda Penelope Poseidone ossa la miseria Poseidone questa Paris Pita Pita Brad Polifemo mitico al 35 grande visuale degli appartamenti gastone artista cinematografico artista del varieté danseur disser friseur frequentatore dei bal tabaren il tre ore di buon umore il ridere 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 conquistatore di donne a getto continuo uomo che emana fascino e una satira afferrata al bell'attore fotogenico affranto compunto pallido di cipre e di vizio vuoto senza orrore di se stesso gastone sono del cinema il padrone ho le donne a profusione e ne faccio collezione con la riga ho il pantalone gastone tante mi ripeto non sei elegante bello non ho niente nel cervello raro io mi faccio pagare caro specialmente alla pensione autore e interprete del suo repertorio creatore creare significa mettere al mondo qualcosa che prima non c'era io sono un creatore un inventore vengo da una famiglia di creatori di inventori mia sorella lina è una creatrice tutti lo sanno creolina mio padre ha inventato una macchinetta per tagliare il burro una scioccazzuola da nulla un pezzettino di legno con un filo di ferro mia madre ha studiato economia lei aveva il senso del calcolo fino alla genialità figuratevi io mi chiamo gastone lei mi chiamava mi chiamava mi chiamava tone per risparmiare il gas dimmi te che carriera anche mio fratello è un inventore adesso ha inventato un apparecchio per la distruzione delle zanzare è un piccolo aggeggetto con un saltaleone si carica si applica fuori dalla finestra e fa la zanzara che si trova dentro la stanza sentendo fare va di fuori credendo di trovare il zanzaro si approfitta di quel momento si chiude la finestra è finita è finita qui è rimediabilmente finita a me mi ha rovinato la guerra se non c'era la guerra a quest'ora stavo a Londra i londrini vanno pazzi per me io sono molto ricercato ricercato nel parlare ricercato nel vestire ricercato nella questura sono un grande musicista canto, ballo, trasporto gondran mi voleva come musicista dovevo andare a Londra a musicare l'orario delle ferrovie e poi sono un grande nella dizione il fine di citore il cantante aristocratico adesso vi faccio sentire tutto il succo del mio ingegno con un saggio sulla mia dizione io come vi ho detto sono il grande dicitore ma è tutto ciò che dico è veramente profondo ma io non ci tengo né ci tesi mai però fate attenzione a questo mio soliloquio così denso di pensiero non fermarsi alla superficie guardare bene quello che c'è dentro quello che c'è sotto è il mio motto sempre più dentro sempre più sotto se l'ipotefosi del sentimento personale prosergando i prolegomidi della subcoscienza fosse capace di reintegrare il proprio subietivismo alla genesi delle concominanze allora io rappresenterei io rappresenterei l'autofrasi della sintomatica contemporanea che non sarebbe altro che la trasmificazione esopolomaniaca che me ne pare che bel talento ma io non ci tengo né ci tesi mai e poi e poi io sono molto ricercato per come porto il frac dove ovunque io vado porto quell'onda di signorilità che amanca agli altri comici del varietà anzi mia madre quando sono nato mica mi ha messo le fasce ma che un fracchettino giravo per casa sembrava una cornacchia che carriera eh gastone sei davvero un belladone con un guanto a pendolone vado sempre a pecorone ogni cuore accende e arde perché c'ho gli occhioni belli le vasette alla Bonardi ed i gesti alla Borelli misterioso come Ghione gastone gastone sei davvero un belladone gastone gastone bice solo lei mi fa felice gemma ama solo la mia flemma rina ah lei per me la cocaina se la prende a collezione pensando a gastone gastone artista del varietà artista cinematografico danseur disur frizur frequentatore dei balta Baren conquistatore di donne a getto continuo uomo che emana fascino il tre ore di buon umore il ridere ridere miau 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 mi 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 guarda 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 ruffiana ai gastone son del cinema il padrone cosa c'è ? cosa c'è ? cosa c'è ? ti ho dato il burro mollami le donne a profusione